I dubbi di Luca Onestini Veronica Angeloni furiosa al GF Vip, i dubbi di Luca Onestini Grande fratello Vip, Veronica Angeloni e Luca Onestini ai ferri corti. . Queste ultime ore non sono certo state facilissime per la pallavolista Veronica Angeloni. Difatti, la giovane concorrente del GF Vip è stata protagonista di due diatribe abbastanza accese con Luca Onestini e, successivamente, con Simona Izzo. . Cos'è successo? In pratica, la scorsa notte in Giardino, l'ex tronista del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, parlando con gli altri inquilini, ha espresso diversi dubbi su Veronica, soprattutto perché ha votato Simona Izzo, con la quale ha instaurato un bellissimo rapporto. . E nel medesimo momento, in camera, Veronica Angeloni si è lamentata di Luca con Ignazio Moser, asserendo che abbia cambiato comportamento negli ultimi giorni nei suoi confronti, non capendo molto il motivo. . Ma non è finita qua perché proprio stamattina i due si sono finalmente confrontati. E dopo poco è scoppiata una furiosa lite, senza esclusioni di colpi. Infatti, Luca ha affrontato la ragazza, dichiarando. . A quel punto c'è stato un lungo chiarimento, e la pallavolista si è scusata per essere stata fraintesa. Tuttavia i problemi per la Angeloni non sono affatto finiti qua. Veronica Angeloni contro Luca Onestini al GF VIP. . Veronica Angeloni, dopo aver discusso con Luca Onestini, ha avuto un lungo confronto anche con la regista Simona Izzo per via delle passate nomination. Il motivo? Simona ha dichiarato di essere stata nominata dalla Angeloni perché avrebbe paura. . Ma non è finita qua perché la Izzo ha aggiunto che è stata proprio Veronica stessa a dirglielo. . A quel punto la giovane concorrente del grande fratello Viet, ascoltando quelle dichiarazioni, è sbottata furiosamente, negando questa versione e asserendo senza tanti peli sulla lingua di non aver mai detto ciò. . Successivamente le due hanno iniziato a discutere molto animatamente, senza arrivare a un chiarimento. E una a un certo punto, Veronica, in lacrime ha esserito. Piano, piano ci manda a tutti. . Simona Izzo vincerà il GF. . Tuttavia le due poi si sono apparentemente chiarite, anche se laria nella casa più spiata dagli italiani sembra rimanere tesissima. Motivo per cui Veronica pare davvero non darsi pace per quanto accaduto nelle scorse ore con Luca Onestini e Simona Izzo. . Potrebbe rischiare la nomination lunedì prossimo? Chissà, intanto Simona Izzo è finita in nomination questa settimana contro l'attore dagli occhi azzurri Lorenzo Flaherty. E in base agli ultimi sondaggi circolati on-line questa nomination sembra essere assai combattuta. . Riuscirà Flaherty a battere Simona dopo averla spuntata dieci giorni fa con l'attrice premio Oscar Serena Grandi? . . . . .